Qui vi presentiamo le 5 migliori correttori posturali. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Wall Med, postura corretta per i bambini. Consente di scegliere tra 4 piccole dimensioni ed è quindi particolarmente ideale per i più piccoli S68, 77 cm, M78, 87 cm, L88, 97 cm, XL98, 106 cm. È totalmente ipoallergenico ed è anche realizzato in un tessuto elastico composto da poliestere e anche lattici. Prende con successo l'umidità e anche il sudore, prevenendo così la proliferazione di microbi e bambini. Passando al numero 4. L'originale DR.Gen posture corrector for air. È una banda di supporto unisex che aiuta a mantenere la posa appropriata, consentendo allo stesso tempo di prevenire il mal di schiena. Riduce l'esaurimento della massa muscolare ed ha un piacevole senso di benessere. È dotato di 12 magneti 400G posizionati in una posizione critica e in questo modo, si preferisce il rilassamento muscolare, aumentando la postura alla schiena e alla schiena e il flusso sanguigno. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Vetrina del benessere raddri da schiena steccato. Disponibile in più misure, è costruito in morbido e comodo tessuto flessibile a coste, estremamente resistente e anche traspirante. È pieno di due stecche di supporto versatili e bande crossover posteriori con cambio addominale strappo e così semplice da indossare e funzionale. Molto pratico da indossare sotto qualsiasi tipo di abito. Garantisce totale libertà di movimento e anche un supporto efficiente della schiena e dei muscoli addominali. Almost at the top of our list at number 2. Dynamic Sword. Supporto spalle per postura corretta. Il prodotto è apprezzato per la sua vestibilità pratica e il suo confort. È leggero, estremamente traspirante e anche positivo al tatto. Il supporto adattabile in acciaio inossidabile aderisce alla forma del corpo e sostiene la parte posteriore e la sezione centrale. E infine il numero 1 della nostra lista. Correttore postura schiena per uomini e donne D.A.L. Questo supporto, che è praticamente non rilevabile sotto l'abbigliamento, può essere indossato interamente separatamente, considerando che le fasce addominali sono fissate nella parte anteriori con inserti velcro vengono fissati. Basta sovrapporsi a una parte della banda sull'altra, dopo aver distribuito la tensione, oltre ad esercitare un leggero stress. Oltre a assicurarsi il corretto posizionamento nell'area inferiore del torace, si preferisce una respirazione appropria. Maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale. Iscriviti al nostro canale.